Frattura in tutto il corpo ed è un trauma che probabilmente si porterà dietro tutta la vita. A 17 anni la ragazzina è ricoverata al Vito Fazzi dopo essere stata investita in bici da un uomo completamente ubriaco. L'incidente è mercoledì pomeriggio sulla provinciale Surbo Torre Rinalda. La ragazzina ha rischiato di morire perché il conducente della Megano, un 47enne anche lui di Surbo, l'ha travolta in pieno. La ragazza è finita prima sul parabrezza, lo ha sfondato, poi a terra sotto gli occhi della madre e di un'amica di famiglia. Erano uscite insieme per una passeggiata in bici intorno alle 16.30 mentre erano ferme sul ciglio della careggiata è arrivata la Megane a folle velocità. L'automobilista evidentemente non si è proprio accorto di loro. Sottoposto all'etilometro gli è stato trovato un tasso alcolemico molto al di sopra del limite previsto dalla legge. I vigili urbani di Surbo intervenuti sul posto gli hanno sequestrato l'auto e lo hanno denunciato per lesioni e guida in stato di ebrezza. La 17enne è finita in ospedale nel reparto di ortopedia.